In questo mese che celebriamo la giornata mondiale della vita consacrata, vogliamo unirci anche noi discepoli missionari dell'annuncio per cercare di praticare la giustizia, amare con tenerezza e camminare umilmente con Dio. La parola che lampada ai nostri passi ci interpella nel presente e mettendola al centro delle nostre vite ci spinge ad uscire dalla nostra autoreferenzialità per dare vita in abbondanza e abbracciare tutto il mondo senza che nessuno resti fuori. Dal volto ai volti, con lo sguardo fisso in Gesù e sempre dalla parte di chi viene escluso, camminiamo con una speranza viva sulle strade del mondo. Rimaniamo ancorate presso le croci per prenderci cura dei crocifissi del nostro tempo e generare cammini di trasformazione. Camminiamo in un modo creativo e non semplicemente sovrapporre il passo alle impronte già tracciate sul terreno. Che la paura non trattenga il coraggio di uscire verso le periferie per testimoniare la gioia dell'incontro con il risorto.